Buona domenica a tutti raga, benvenuti in questo nuovo video in questo video vi auguro buona domenica a tutti oggi è la domenica delle partite, oggi si gioca ci sono tante belle partite e sinceramente sono contento perché si ritorna a giocare alle 12.30 l'orario che mi piace perché è bello vedere la partita mentre i pranzi scusate se sono incontroluce ed è bello vedere la partita mentre mangi cioè ti diverti, invece quando la partita alle 12.30 non c'è mi annoio questo è un video per augurarvi buona domenica soleggiata fra poco faremo un altro video dove farò i gif e niente, iscrivetevi al canale e attivate la campanella forza napoli, iscrivetevi al canale e attivate la campanella matti360 su youtube, forza napoli, ciao!